È un momento di emergenza sanitaria nazionale, anche della nostra provincia. I nostri ospedali sono in un momento di grande difficoltà, dobbiamo cercare di aiutarli. Devi aiutarli rimanendo a casa, come ci è stato suggerito dal Ministero, e per aiutarli la fondazione solida della Fondazione Cassa di Spagna di Alessandra ha attivato una raccolta fondi che se volete aderire potete farla attraverso un modifico valcario andando direttamente sul sito della fondazione solida e ve ne saremo assolutamente grati.